Cosa è mancato lo scorso anno al Pescara? Perché sulla carta eravate forti, però siete arrivati ai quindicesimi. Cosa è successo? Abbiamo già ricominciato, io non ricordo più l'anno scorso. Fare il meglio possibile. Adesso l'unica cosa che conta è sudare e lavorare sul campo. Sicuramente penso che nessun giocatore che è rimasto voglia fare il campionato dell'anno scorso. Quindi daremo tutti il massimo per arrivare in alto. La Serie B è mai un campionato facile. Resta difficile pure quest'anno. Però abbiamo qualità e una mista bravissima comunque. Dobbiamo fare nostra. Il mister lavorerà sul fatto mentale nostro. Perché comunque l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato. subiamo tantissimi campionati, quindi lavorerà molto sulla difesa e sul giocare 90 minuti. Anche perché lui ha lanciato comunque, come hai già detto tu, faceva gol quasi sempre all'ultimo. Non ispiriamo che capiterà anche a noi. No, sicuramente il mister ora molto sulla difesa, però penso che comunque il calcio non mancherà. Perché comunque secondo me il confronto tra Lanciano e noi tecnicamente c'è, non ce n'era. Quindi comunque magari a Lanciano ha lavorato dove pensava che comunque la squadra era forte e qui lavorerà in base ai giocatori che avrà a disposizione.